Madrid suona nella suggestiva Puerta del Sol dove però Napoli canta a un giorno esatto dalla superfida Correal l'invasione è cominciata saranno 10.000 e più con sacrifici forti sulle spalle 1000 euro per la passione i soldi giusti per una vacanza di 4 giorni a San Valentino meglio la moglie o il Napoli? in questo caso sto qua purtroppo Napoli e moglie e bambini dai e tentativi di travestimento già improvvisati domani entro con il cappello della Madrid anche se tifo Napoli a Madrid sono già migliaia i tifosi del Napoli pochi con la sciarpa ma basta un là per scatenarne l'entusiasmo incontenibile occupata da 300 tifosi anche l'area antistante del hotel che ospita il Napoli e Diego Armando Maradona fa la oceanica una carica senza precedenti per provare a scrivere la storia Mentre in piazza sbuca anche la pizza del gemellaggio il calore esportato a Madrid per un sogno che parte da Puerta del Sol chilometro zero per arrivare lontano